Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Pronto? Sì, vorrei il dottor Flash. Qui in un istante c'è un ammalato, sta male, c'è la pancia grossa che scoppia tra poco. Poverino, subito, dottor Flash, sì, 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 grazie. Un po' di camomilla. Ti faccio la pancia grossa. Sono io. Salve, dr. Flash! Ho ricevuto una telefonata che a questo indirizzo c'era un ammalato. Purtroppo, guarda, il luco sta male, guarda la fascia come schioppa. Signora, mi avete sbagliato un po'? Io sono un dottore. Ho fatto le scuole alte all'università di Bologna. Sono un veterinario. Oh, specialità salumi, salame. No, medicale di essere umane. Oh, ma guarda, sembra un umano, guarda, guarda, guarda come agisce, poverino. Va bene, proverò di fare qualcosa, facciamo le scuole alte all'università. Ho fatto la camomilla, sono io. Oh, un po' di camomilla. Salve, da un po' di camomilla rosso si taglia la pancia, vuoi un cortetto? Ti hai fatto dunno e dunno, voglio. Infermiera, portami la seringa magica. Non si preoccupare, non patturisce, ci sono molte caramelle lì dentro. Non ho mai visto una seringa così. Ma è sbagliato, infermiera, questa è per la bicicletta, la seringa magica medicinale. Aspetta un attimino. Non diamare questo dottore, è quando sono malata che io. Allora vedrai che fra qualche minuto tutto sarà a posto. Sicuro, sicurissimo. Ti senti già meglio, vero? Va bene. Ma lui si sente meglio? Sì, sì, fra due minuti mi starà in piedi. Devo scappare, devo andare a salvare un altro ammalato. Ciao! E non dimenticate, Dr. Flash, 514, 325, 911, 1-1-1. Devo scappare, devo scappare un altro ammalato. Oh, posso! Beh, stavo meglio prima. Perché? Ma che paura che fai con quel naso di pesano? Forse sono brutta, ma un cuore d'oro. Io sono generosa lavoratrice e non sono cattiva. Tu sei cattivo, egoita e hai mangiato tutte le cioccolatine e le caramelle che preparavo per voi, ragazzi. È cattivo? Sì! Ah, chiedo scusa, bambini. Mi perdonate? No! Ma come farai adesso a preparare le calze per tutti? Sai che? Questi bambini bravi, ho mangiato tutto. La Befana è moderna, la Befana ha una soluzione a tutto. E il telefonino? Eh sì, i bottoni li dovevo prendere più grandi però. Ok, andiamo. Sto chiamando i miei tre amici. Sì, sì, sì. Arriveranno ad aiutarci. Sì, sì, sì. Di sicuro perché io, quando loro sono venuti da me, la sera, prima dell'epifania, io li ho aiutati, li ho ospitati a casa mia. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, ma vengono da lontano perché ci vuole tempo ad arrivare. Sì, sì, sapete chi vengono a visitare il bambino Gesù? Il bambino Gesù? Il bambino Gesù. Ah, brava, quella lì va a mezza. No, è un bambino Gesù. Grazie. Grazie.